Escalation di furti nelle abitazioni di Scafati, l'allarme arriva dalla CISL dopo le segnalazioni dei cittadini, in particolare di molti pensionati. L'ultimo episodio ha visto protagonista incolpevole un'anziana che è stata prima narcotizzata e poi derubata di 500 euro. Problemi di microcriminalità, questa l'analisi di Giovanni Dell'Isola, segretario generale dei pensionati CISL. Combattere contro la microcriminalità organizzata in una zona di frontiera come Scafati, ha detto il rappresentante sindacale, è compito difficile e i reati, nonostante i nostri appelli, continuano a destare preoccupazione. Ogni giorno gli iscritti CISL raccontano dal sindacato, spiegano delle gravi difficoltà che incontrano passeggiando tra le strade di Scafati, tra le vie del centro cittadino e nel cuore della periferia. Le forze dell'ordine svolgono il loro compito con impegno e spirito di abnegazione, ma secondo la CISL per un'azione più efficace occorre un potenziamento del personale con nuovi agenti e vigili municipali. Dell'Isola ha rivolto un appello alla prefettura, al questore e alle altre istituzioni di farsi portavoce presso il Ministero dell'Interno e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza per l'assegnazione di personale, oltre all'elevazione a comando compagnia della tenenza dei carabinieri di Scafati. Per il rappresentante dei pensionati bisogna dar vita ad una vera e propria task force tra Polizia Municipale e il resto delle forze dell'ordine a causa dell'aumento dei reati che ha creato una forte allarme sociale e un'insicurezza sempre maggiore nella cittadinanza, ha affermato. In particolare nelle persone anziane. È inutile negare che a Scafati, nell'ultimo periodo, a concluso dell'Isola, questi episodi sono aumentati ma i cittadini non possono essere ostaggio di alcuni facci norosi che attentano la nostra comunità.